ok ciao tutto bene e niente allora oggi facciamo solo un'ora e mezza e quindi cercherò di andare avanti un po più veloce e oggi faremo quello che corrisponde con bootstrap che questo di cui vi ho parlato già parecchio che ho detto che è tutto molto più semplice con bootstrap che è un framework che ci aiuta a fare le cose per non fare da capo il css come avevamo fatto finora ma che in realtà c'è già un tool che ci dà una mano a farlo no e che in realtà quelli che sviluppano i siti diciamo veri e usano questi framework è poco realistico pensare che qualcuno ci mette a fare un sito facendo da capo il css quindi oggi vedremo come si usa bootstrap capirete anche come quello che avete fatto finora diciamo si può anche fare in maniera più semplice con bootstrap ma poi il senso di aver fatto tutto quello che avete fatto finora è capire come funziona bootstrap sotto no non aveva molto senso raccontarvi questo prima se non sapevate cosa come funzionava il css cosa c'era sotto adesso che lo sapete possiamo usare un framework come bootstrap per velocizzare lo sviluppo del sito ok quindi niente partiamo da quello che abbiamo fatto scorsa settimana oggi visto che abbiamo un'ora e mezza andremo dritto sul sull'esercizio su quello di mangiato sul nostro sito e andremo a integrare nel nostro sito bootstrap e niente così vi faccio vedere come funziona ok quindi 0.5 bootstrap ok e ehm Grazie. Ok. Grazie. Ah no, questo CSS non ci serve più. Eccolo qua il nostro sito. Eravamo rimasti così, no? L'altra volta. Allora andiamo direttamente su Bootstrap. Cos'è Bootstrap? È un toolkit che ci aiuta a fare il CSS. Anzi non è che ci aiuta a fare il CSS dei siti. È un CSS che possiamo usare noi nei nostri siti. Chi è che ha sviluppato questo CSS? L'hanno sviluppato quelli di Twitter, che adesso è X. Quindi hanno sviluppato questo CSS che noi possiamo andare ad usare. Com'è che si usa Bootstrap? Com'è che potete integrarlo nel vostro sito? Allora, per primo, questo è il sito. Quindi quello ufficiale è sempre questo getbootstrap.com e fate attenzione perché, allora, noi useremo questa versione qui, che è l'ultima versione, quella, sì, l'ultima. E a volte se, che ne so, tipo voi andate su questo sito ma venite tipo da Google, magari lui ha impostato una versione precedente. Quindi fate sempre attenzione che qua sia selezionata l'ultima versione, capito? Quindi 5.3 e niente, vediamo cosa c'è qui nei docs del sito, forse. E c'è questo quick start, no? Quindi ve lo ricordate come facciamo noi ad integrare il nostro CSS all'interno dell'HTML? Cosa dovevamo fare? Nel head andavamo a mettere questo script in cui dicevamo, anzi, questo qua, no? Questo link, per dire che c'era un style sheet, cioè un CSS, che si trovava in questo indirizzo. Questo indirizzo cos'era? Un file nel nostro sistema. Il file che c'era lì nella stessa cartella. Quindi c'era un file style.css. Qua cosa facciamo? La stessa cosa. Solo che il file non è più nel nostro computer, ma è un file che si trova su internet, no? E che sarebbe questo qui. Quindi guardate che qua andrò a cancellare i nostri file CSS, c'era un altro per Google Fonts, che quello lì un po' assomiglia a Bootstrap, nel senso che non era un qualcosa nel nostro computer, ma era un qualcosa che noi andavamo a referenziare, ma che era su internet. Quindi io andrò a cancellare questi due CSS, torniamo sempre alla versione brutta del nostro sito, della nostra pagina. Ma poi incollo qui questa linea per importare il CSS che si trova in questo indirizzo. Capito? Ehm... Se noi andiamo ad aprire questa URL, cioè questa... Cosa c'è? Tutto il CSS. Guardate che questo qua è il CSS fatto da loro, no? Quindi alla fine non è cambiato nulla, facciamo la stessa cosa, solo che prima c'era un CSS fatto da noi sul nostro computer, adesso c'è un CSS fatto da loro che lui va a prenderlo da internet. Volendo, anche noi potremmo scaricare questo e lasciarlo lì come file all'interno del nostro progetto. Ma, diciamo che, dato che è una pagina web e che sappiamo che ci sarà internet, possiamo semplicemente referenziarlo e, niente, prenderlo da remoto, da quell'indirizzo che c'è lì. Ehm... Come vedete, è enorme. Ehm... Ma, volendo, noi più o meno riusciremo a capire cosa c'è qua scritto, no? Non è un qualcosa strano per noi. Si riesce a capire... Già, con quello che sappiamo di CSS, sappiamo che sono le regole, le proprietà, dei valori, delle percentuali, quindi questo sappiamo come funziona sotto. Ok? Bene, quindi adesso abbiamo portato questo. Ehm... Bisogna anche aggiungere questo qua, questa linea qui. che è un metadata con questo nome viewport che serve a specificare che il width del nostro sito, cioè la larghezza del nostro sito, dovrà essere uguale alla dimensione dello schermo. Ok? Questa cosa serve? Lo vedremo più avanti quando facciamo le cose più responsive. Ma per ora impostiamo così. È un modo di indicare al CSS che il viewport, diciamo che il contenuto, che la larghezza del nostro sito sarà uguale alla dimensione dello schermo e che la scala iniziale sarà uguale a 1. Quindi aggiungiamo pure questo qui. E vediamo se è cambiata qualcosa. Sì, è cambiata qualcosa, no? Vedete che adesso il font non è quello che... Anzi, vi faccio vedere. Senza bootstrap sarebbe così. Poi solo aggiungendo bootstrap, diciamo non abbiamo ancora fatto nulla, ma cosa cambia? Il font. Quindi vuol dire che di default il font che usa bootstrap è diverso dal font default del browser. Ok? Quindi finora abbiamo fatto questo e poi qua c'è quest'ultima riga da copiare, ma che questa non c'entra con il CSS, ma che c'entra con JavaScript. Che non sappiamo ancora cosa sia, lo vedremo più avanti. E vi dico solo che il JavaScript in questo contesto serve a... Ci sono certi comportamenti che non si riescono a implementare solo col CSS, no? Quindi per dire quando all'interno di un sito ci sono delle animazioni, le animazioni non funzionano con CSS. C'è un codice JavaScript che fa per dire muovere le cose all'interno dello schermo. O avete visto per dire i carousel, che è quel componente che girano le immagini quando cliccate sul bottone. Quindi quelle cose si gestiscono con JavaScript. Perché li importiamo qua? Perché ci sono appunto questi componenti quali il carousel, che ha per dire questa animazione. Se noi non importiamo quel JavaScript questo carousel non funziona. Ok? Quindi JavaScript serve a implementare questi comportamenti che coinvolgono qualche animazione all'interno del sito. E poi guardate che quel... Fate attenzione dove viene importato questo JavaScript. Vedete che è l'ultima istruzione prima di chiudere il body? Si mette in quella posizione lì perché questo... Diciamo perché dovrebbe essere la ultima cosa a essere caricata del sito. Diciamo l'ultimo componente ad essere caricato del sito. Perché molte volte questo JavaScript va a manipolare i componenti che ci sono all'interno del sito, no? Quindi se qua ci fosse questo H1 io potrei fare tramite un JavaScript che questo H1 cambiasse, che ne so, quando l'utente passa il mouse sopra. Ma se lui, se questo JavaScript è messo prima, non riesce a sapere che qua c'era questo componente, capito? Quindi viene messo alla fine, così carica prima tutti i componenti e eventualmente se questo script andasse a modificare qualche componente riuscirebbe a vederlo, saprebbe che esiste quel componente lì. Quindi niente, andiamo a copiare questa. E niente, c'è sempre il nostro sito, è rotto di nuovo, ma poi vediamo con JavaScript com'è che possiamo riuscire a comporlo. Ecco, quindi vi ricordate che l'ultima lezione, l'ultimo slide, vi avevo parlato su questo modo di dividere il sito pensando sempre a una griglia con 12 colonne? E che vi avevo detto che ci serviva fare quel ragionamento lì per riuscire a capire più o meno come impostare i componenti e quanto occupa ogni componente all'interno del sito? Allora, quello ha senso dal punto di vista del design grafico, ma è anche così come funziona Bootstrap. Quindi, sappiamo già come importare Bootstrap nel nostro sito e poi l'altra parte importante di Bootstrap, o l'altra parte che magari bisogna imparare a memoria o capire bene, è questa del layout. Com'è che funziona il layout? Poi tutti questi componenti, i componenti che vedremo più avanti, diciamo non dovete imparare a memoria, venite sempre, li cercate qua, vedete l'esempio di come si usano, copiate, incolate e funzionano. Ok? Ma bisogna, più o meno dal punto di vista concettuale, capire com'è che funziona il layout. Quindi, nel layout Bootstrap definisce dei breakpoint. Secondo voi a cosa ci servono questi breakpoint? A definire la parte responsive del sito, no? Perché Bootstrap ci garantisce che ci gestisce anche, diciamo, l'aspetto responsive del nostro sito. Quindi, usando Bootstrap, non dovremo fare come avete fatto in lab, tipo che avete fatto un media query per ogni dimensione, ma è lui che in automatico ce lo gestirà. Come lo fa? Lui, niente, definisce queste misure, che ve le ho fatto vedere in lab, no? Per darvi qualche idea su quale potrebbero essere le misure dei diversi tipi di schermi. E basta. Finora sappiamo che ci sono i breakpoint e che Bootstrap ha dei breakpoint definiti. Che questi breakpoint corrispondono con i media query che noi conosciamo già. Poi ci sono i container, che ci sono due tipi di container in Bootstrap. C'è il container senza niente e c'è il container fluid. Il container senza niente occupa, vediamolo qui, facciamo head, body, ok. Facciamo una cosa più pulita e... Anzi. Ok. 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 quindi se noi volessimo fare da capo con bootstrap partiremo così, no? cos'è che si fa per prima diciamo in bootstrap o qual è, diciamo, l'ordine delle cose prima creare un container e la, diciamo, il primo componente da aggiungere sarebbe questo container che lo facciamo all'interno del body ok? no ok e allora qua ce l'abbiamo il nostro container e per dire andiamo ad aggiungere ok ok allora guardate che con il componente container lui, diciamo, lascia qui accanto un margine, no? non occupa tutto l'espazio del schermo ma lascia tipo un margine qua ai lati se io al posto di questo usassi container fluid lui cosa fa? occupa tutto l'espazio del schermo quindi questa è una scelta che possiamo fare noi e... pensate che quando voi andate su qualche sito per dire qua lui ha occupato tutto l'espazio del schermo, no? non so se... niente, per dire questo navbar occupa tutto il schermo questo qua invece lascia qualche spazio qui ok? ma per ora tenete conto che il primo componente che viene aggiunto su bootstrap è il container che è il contenitore all'interno del quale verranno, diciamo messi tutti i componenti arrangiati tutti i componenti e... bene poi c'è questo grid, no? quindi le cose all'interno di bootstrap si organizzano con un grid cosa ci vuole per fare un grid? o... sì, cosa ci vuole per fare un grid? quali sono i componenti all'interno di un grid? una row no? una riga e all'interno delle righe cosa c'è? ci sono delle colonne, no? quindi c'è il container all'interno del container ci sono delle righe e poi all'interno di ogni riga ci sono delle colonne basta quindi vediamo questo esempio come funziona sul nostro sito allora c'è il container che ci occupa tutto l'eschermo volendo potremmo mettere l'altro container che non ci occupa tutto ma che ci lascia qualche spazio c'è la riga e poi guardate che qua mettendo solo questo CSS col lui cosa ha fatto? ci ha creato boh tre colonne e e ognuna ha dato lo stesso spazio perché non abbiamo specificato una dimensione alle colonne quindi tutto chiaro e basta se noi andiamo avanti facciamo prima così io volessi cambiare per dire la dimensione di questa colonna o la proporzione del dello schermo che occupa quella colonna come potrei fare mi viene in mente qualche idea qua è una figata perché se io avessi solo due per dire lui cosa fa in automatico? distruisce giusto? ma vi ricordate che quante colonne avevamo detto che c'erano all'interno di bootstrap? dodici giusto? se io mettessi qua col otto lui cosa fa? da questo quattro giusto? guardate che se io metto quattro allora lui lo fa in automatico vedete quindi non siamo noi che dobbiamo creare una classe per ogni boh per ogni componente poi andare ad editare il css per fare che con flex occupi boh flex 1 e flex 4 ma lo fa lui in automatico perché tutte queste classi che ci consentono di gestire il layout sono già state definite da loro ok? da chi ha sviluppato questo css di bootstrap e quindi io potrei mettere qua 8 4 potrei anche dire che ne so ok c'è un altro esempio che sarebbe tipo se io facessi così cos'è successo? lui ha questa della metà da 8 e poi quello che avanza che sarebbero 2 e 2 lo lascia alle altre colonne ok? quindi molto più semplice fare le cose con diciamo usando bootstrap che ci gestisce già tutti in automatico noi dobbiamo invocare solo queste classi che sono già state definite e lui ci gestisce il layout e qua sul sito trovate tutti gli esempi no? allora per dire l'esempio che abbiamo appena fatto sarebbe questo viene definita solo la lunghezza di una colonna quindi le altre si arrangiano nello spazio che avanza e e basta poi una prima allora sì diciamo ricapitolando una cosa bella che fa bootstrap quella di gestirci questa in automatico poi l'altra cosa ancora più bella sarebbe questa di darci una mano con la parte responsive del sito come lo fa? tramite queste classi qua allora noi finora abbiamo usato questo col che sarebbe quello di default o quello più semplice quindi per quello che sono partito da lì ma poi guardate che c'è anche questo col sm no? con questo suffisso secondo voi cosa fa? sì allora sì da quella dimensione al componente quando lo schermo è small è small capito? facciamo la prova con questo facciamo che questo è col 4 questo è col ok col 2 ok se io poi dico col sm 12 c'è con questo Grazie. 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 Ok. Quindi cos'è? Ve lo faccio vedere qui perché su Visual Studio, visto che è troppo piccola, non si riesce a vedere bene com'è che fa la... ma diciamo sul browser sarebbe così, no? In questo caso com'è che è stato definito questo layout? Sul codice ho detto quando lo schermo, abbiamo questo medium, cioè quando ha da medium in poi, da quando ha quel breakpoint definito come medium in poi, si usa questa distribuzione qui, no? La prima colonna ne avrà due... la prima... sì, la prima colonna avrà due, questa avrà come proporzione otto e questa avrà come proporzione due. Quindi guardate che tutto questo è somma dodici. E come si vede è così, no? Cioè la prima che ci occupa due, questa qua in mezzo che ci occupa otto e questa qua che ci occupa due, bene? Poi cosa abbiamo fatto con quest'altra regola che abbiamo aggiunto? Abbiamo detto che invece quando lo schermo è piccolo, cosa fa? Occupa tutto, quindi mette una dopo l'altra, ok? Perché non c'è spazio, no? Quindi pensate quando si apre su un telefono non c'è spazio per mettere tutto uno accanto all'altro, ma lo fa uno dopo l'altro. E guardate come funziona in questo caso, ok? E lo fa lui in automatico. Quindi è un grosso vantaggio da quello che abbiamo fatto finora a farlo solo aggiungendo queste classi e lui ci gestisce tutto in automatico, tutta la parte responsive. E per sapere di preciso qual è la misura che usa lui come guida, venite qua e guardate questi breakpoint, no? E quindi questi sono i breakpoint che stabilisce lui. Lui intendo bootstrap. E niente, sul sito ci sono tantissimi esempi da cui potete prendere, boh, prende l'ispirazione. In realtà copiare e incollare, solo che facendo attenzione farete sempre così, no? Andate, andrete sempre al sito, sul sito, copiate e incollate quello che c'è, a seconda dall'esempio che voi volete, diciamo, integrare sul vostro sito. Ma l'unica cosa a cui bisogna sempre fare attenzione è sempre a questa struttura, no? C'è prima il container, c'è poi il row e all'interno delle row ci sono le colonne, c'è il col, ok? Container, row, col. Se fate così è sempre tutto a posto, quindi bisogna solo fare attenzione a quello, a rispettare quella struttura lì, ok? Boh, sì. Anche, guardate che questi esempi che sono qui, anche, diciamo, cambiano a seconda da, da, dal width del browser, della finestra, ok? Row columns, ok, fin qua, tutto chiaro? Sì? Domande? Ok. Allora, c'è un'estensione di... no, ma diciamo, sarebbe quella il test da fare. Sì, perché in realtà è così, come sappiamo se con un'altra, con un'altra dimensione funziona. Poi per farlo, diciamo, più semplice, c'è un'estensione, non so se ce l'ho qui su, su Safari. Apri poi di una cosa, se risorca... C'è un'estensione... ok che qua c'è su chrome c'è questo altri strumenti e poi c'è strumenti per sviluppatori e in teoria tra questi qua c'è questo tool per impostare per dire le dimensioni dei diversi device da cui si può aprire il sito quindi per dire come si vedrebbe questo su un ipad air per dire e si vedrebbe così quindi in quel caso lui usa l'impostazione che abbiamo messo noi con le colonne md no? perché un ipad mini avrebbe le dimensioni che rientrano in quella categoria di lì di col md qualcosa invece se noi vedessimo questo sito su un iphone si vedrebbe così no? che sarebbe l'interfaccia responsive quindi sì per fare il test potresti usare questa diciamo google chrome e usare quei tool per sviluppatori e niente no su visualis no no mi sembrava no oltre questo live preview no e quel live preview secondo me non consente di fare quella quella parte responsive ok ok bene questo è quello che riguarda il layout e poi andiamo a vedere diciamo le cose per dire o i componenti che si possono usare con con bootstrap o i componenti che ci offre bootstrap da aggiungere al nostro sito quindi vi ricordate quello di mangiato cos'è che aveva sopra diciamo il primo componente visivo qual era? era il navbar no? in cui c'era tutta la navigazione c'era il logo e c'era sì volevamo fare anche questo questo text input per fare una ricerca come lo facevamo prima e lo facevamo diciamo a mano e iniziamo a sviluppare questa cosa da capo qua invece cosa c'è? guardate che ci sono i components no? qui su questa colonna ci sono i components e noi possiamo andare niente a cercare il componente che ci serve per dire c'è questo card che ci consente di fare qualcosa di questo tipo c'è voi il carrusel l'avevamo visto ce ne sono tantissimi quindi giusto per vedere andiamo o per farlo in ordine andiamo a vedere cosa ci offre come navbar come componente navbar ok? quindi guardate che quando noi veniamo qua su navbar lui prima ci ci fa una spiegazione su come funziona su quali sono le classi per far diventare un div o un container un navbar anche per il navbar applicano queste regole per farlo diventare responsive adesso vediamo come si fa a diventare responsive e ci spiega quali sono le classi CSS definite su bootstrap che possiamo usare per creare un navbar quindi guardate per dire questo qua no? che ha praticamente tutto quello che volevamo avere noi nel nostro navbar per mangiato giusto? perché di qua ce l'ha voi il nome ce l'ha dei link e una casella per fare la ricerca ok? poi c'è un altro qui sotto che al posto del di un testo qua a sinistra ce l'ha un'immagine che è ancora meglio no? perché è così come volevamo fosse il nostro che a sinistra ce l'avesse l'immagine quel logo lì di mangiato e poi a destra avesse i componenti e così via ci sono tantissimi esempi ci sono diversi modi di diciamo di impostare questo navbar e guardate che questo per dire qua ha dei link e uno di questi link è disabled e sempre c'è l'esempio e sotto il codice html come vi dicevo prima cosa ci vuole copiare e incollare quel codice facendo soltanto attenzione a preservare sempre la struttura che avevamo detto prima quindi per dire andiamo a vedere il primo e cerchiamo di integrarlo nel nostro sito e vediamo cosa quindi si può copiare cliccando qui e qua al posto allora qua cosa devo togliere per raggiungere quello fin dove devo togliere ok quindi cos'è che ho fatto ho detto che all'interno del mio container il primo componente che giungo sarà questo componente di tipo nav che ha queste classi qua dove che sono definite queste classi sono definite nel CSS bootstrap ok quindi non è un qualcosa che si non abbiamo più il nostro CSS con una regola che si chiama navbar navbar expand ma lo fa tutto per noi bootstrap come facciamo a capire cosa vogliono dire queste queste classi queste regole sempre sul sito di bootstrap c'è la spiegazione e alcune si capiscono da boh da leggendole anche ok ah ma aspettate perché questo qui è impostato diversamente nel senso che se noi facessimo quindi guardate che questo qua ha definito prima il nav e poi all'interno del nav ha definito il container ok perché l'hanno fatto così perché volevano che quel nav occupassi tutto diciamo tutto l'eschermo noi perché abbiamo detto prima che viene sempre definito il container poi il column e poi il row perché lì stiamo parlando di come strutturare il layout del sito qua loro volevano semplicemente non strutturare ma diciamo organizzare solo quel solo quel singolo componente del nav ok quindi guardate che qui all'interno di questo non ci sono per dire né row né column ok loro hanno definito questo navbar e all'interno di quello hanno creato un container che occupa tutto lo schermo ok perché qua c'è questo bottone secondo voi questo sarebbe allora quel bottone lì sarebbe perché questo navbar in automatico guardate cosa fa avete visto quando la pagina diventa troppo piccola stretta quando fa il quando triggera diciamo la parte responsive allora mette questo bottone in automatico lo fa lui da solo come facciamo noi a dirgli di farlo aggiungendo aggiungendo queste classi che ci sono qua e per dire per riuscire a boh ad avere questa questo comportamento dal sito è per questo che dobbiamo aggiungere javascript senza javascript questo non funziona perché una cosa diciamo un comportamento dinamico come fosse un'animazione qualcosa che che richiede javascript e guardate che quando c'è così allora lui cliccando qui ci fa vedere quali sono i link no altrimenti boh ci fa vedere il sito come era prima ottimo quindi vediamo se riusciamo a customizzare questo un po' per iniziare a fare il nostro quindi qua ci serve un'immagine quindi qua c'è il nap c'è il dip che ce l'abbiamo noi e come primo componente viene messo questo navbar brand che sarà per aggiungere l'immagine quindi vediamo sul nostro css c'è il nav c'è il dip solo che al posto di questo qua che è semplicemente un link con la scritta navbar noi vogliamo mettere un'immagine che abbiamo visto dall'esempio che si aggiunge così non è che so questa memoria ma ho visto dall'esempio che funziona così e niente la metto qua devo però come si chiamava logo vediamo se funziona oh it's up as a chi si Grazie. Grazie. E quindi adesso mettiamo questo, che ne so, tipo 50. Qua 50. Troppo piccola, dove è? 100 e qua mettiamo 100. Ok, poi cosa c'era nell'altro sito? Non me lo ricordo. Noi abbiamo messo menu orari, chi siamo, contatti, avvisi, quindi com'è che facciamo? Scusate. E qua invece cosa c'è? C'è home, ok. E com'è che facciamo a cambiare questo? Questo, niente, così. Menu. Orari. Ok, in questo qua, nel nostro, c'è questo drop down, no? Che è uno diverso. Non è quello che, ma non ci interessava, ma è uno diverso. Facciamo tutti come questo, no? Perché per ora i nostri link sono semplici, quindi direi che usando solo questo ci va bene. Se poi dovessimo fare uno con drop down, allora sarà usare questa classe qua, no? Drop down item, ok, now. Menu orari, chi siamo? Eh, cos'era? Ok. E voi mi sembra che volevate questo qui, per fare una ricerca, e quindi dato che il componente è fatto così, ci va benissimo. Poi, qua ci sono sempre tantissime cose diverse che possono continuarsi a fare sul, po', sul navbar. Come vi dicevo prima, dovete sempre andare a cercare la documentazione, vedere gli esempi e scegliere quello che vi piace di più. Copiare e incolarlo sul vostro sito. Oh, c'è di tutto. E solo, boh, questo è il testo, testo. Io volessi cambiare il colore di questo, come faccio? Guardate che c'è questo qua, che ha il background dark. Quindi, dovete sempre fare attenzione dove, a che componente è stata aggiunta questa classe, in questo caso il componente a cui è stata aggiunta questa classe è il componente nav. Questa, questa, questa prima classe navbar, ce l'avevamo già nel nostro componente, e ci manca allora questa, bg dark, che sta per background dark. E poi, guardate che. Adesso mi sembra che abbiamo questo background body, quindi se noi tagliessimo questo, aggiungessimo vg dark, cosa fa? Mette quello dark, ok? Poi come fate a mettere il testo in bianco? Sempre la stessa cosa, andate sul sito e vedete, qua mi sembra order bottom. Ah, ok, aggiungete questo qua. E l'aggiungete al componente nav, ok? Questo per indicare che usiamo un, non solo lo sfondo oscuro, ma anche il tema oscuro, in modo che lui mette il testo in bianco. E anche questo qua, avete visto che l'ha messo in bianco, questa search, per farla visibile. Ok? Bene. Quindi, fin qua? Tutto chiaro? Domande? Ok. Bene. Allora, proviamo a fare, diciamo come esercizio, e anche per vedere, fare più esempi su come si fa a prendere i componenti di bootstrap ed integrarli sul nostro sito. Proviamo a vedere cos'altro possiamo sistemare, boh, sistemare o rifare dal nostro sito, come era prima, per farlo diventare, boh, sito, boh, per raggiungere le classi bootstrap, ok? Quindi questo cerca, col bottone, ce l'abbiamo già fatto. Non so se vi ricordate una volta che abbiamo fatto un bottone, che ci avevamo messo un bel po', no? Perché bisognava con il CSS definire il background e aggiungere quel stile per gli angoli del bottone, farli diventare rounded. Avevamo cambiato il font, avevamo cambiato tante cose. E qua invece lo fa lui in automatico. Allora, questo cerca, cerca, c'è già. Il logo ce l'abbiamo già, abbiamo anche il link, è già tutto impostato sul... 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 sul NAP. Poi... Poi... Anzi, facciamo così. Anzi, facciamo così. Ok, questo è il sito. E poi c'era qua... Ok, no, ve lo chiedo perché non capisco molto bene voi come pensavate che poteva essere fatto questo sito, no? Quindi c'è il menu del giorno, ok? Dove volete mettere quello? Verrei messo nel main o verrei messo come una site? Nel main. Ok, quindi... Ok, quindi... Ok, quindi... Vediamo come si può fare. Ok, quindi dopo il NAP cosa facciamo? Quindi il nostro NAP funziona bene. Cos'è che dobbiamo aggiungere? Un altro contenitore, no? Diciamo per andare a inserire tutti gli altri componenti. Finora ce l'abbiamo il main e a posto lo lasciamo così. Poi dobbiamo aggiungere altri contenitori. Abbiamo detto che sicuramente questo sito, non sappiamo ancora cosa mettere, ma sicuramente ci sarà un componente a sinistra e poi ci sarà quello principale che occuperà tutto quello che avanza a destra, no? Che lì possiamo mettere per dire il menu. E com'è che facciamo fare questa... Mettere a sinistra un pezzo e poi a destra l'altro? Lo facciamo con il row e lo facciamo con i column. Quello che abbiamo appena visto, che è come si gestisce il layout qua. Per usare il row e per usare i column, cosa dobbiamo mettere prima? Un container, ok? Perché la struttura è sempre container, row, column. Quindi, if class, container, poi all'interno del container cosa viene messo? Row, e poi... La colonna, ok? Mettiamo che questa occupi 4 e... Ok. E facciamo un'altra. Che ci occupi 8. Ok. Giusto per vedere come... Quindi c'è il menu del giorno messo qui, qua... Ma qua, secondo voi, cosa possiamo mettere? Ah, sì, forse sì. Ok. E perché questo qua non occupa tutto l'eschermo? Perché ha la classe container. Quella che occupa tutto l'eschermo è container fluid. Ok. A me piace di più che non occupi tutto l'eschermo, quindi lasciamo così container, container normale. E il nav, boh, possiamo lasciarlo così com'è. Ok? Che occupi tutto. Che è un po' la stessa cosa che c'è sul sito di Bootstrap, no? Guardate che questo occupa tutto, e invece i contenuti occupano solo... Diciamo, non si spandono su tutto l'eschermo. Ok? Ok. Ok, quindi c'è avvisi e c'è menu del giorno. Va bene, per questo menu del giorno cosa possiamo usare? Ci sono queste cards, che è un qualcosa che, diciamo, che ci fa questo componente qua, che un po' è bello, nel senso se noi potessimo, diciamo qua, mettere l'immagine del menu e poi qua sotto la descrizione può andare bene, ma in quel caso direi che non serve più questo go somewhere. Un altro potrebbe essere, boh, tipo così, mettere il primo, il secondo, il contorno. Forse come questo. Non lo so, ditemi voi, eh. Io dico così, ma... E c'è questo, non so che altro componente ci possa servire, c'è questo list group che le metterebbe così, c'è... No, facciamo così. E così riusciamo a usare questo componente e vi faccio vedere come si integra un componente come questo. Card. È un'estudio che si sentiamo. No. Già! No. 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 E quindi, allora si sent taps Puesopy. Anche quaningar. No. 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 ok per dire qua voi avete detto che c'è sempre un primo ci sono i secondi e boh facciamo che ci sia anche il contorno ok giusto per spiegare come si potrebbe fare no quindi a me viene in mente che possiamo mettere un card che è questo componente qui con il primo poi un altro card con il secondo e poi un altro per il contorno ok non so se abbia senso ma giusto per fare questo esempio qui e per farvi vedere come si può aggiungere questo componente perché questo card? boh perché mi sembra sì mi è piaciuto questo componente diciamo non è che c'è un motivo che c'è una regola per capire che componente aggiungere ma ognuno decide come fare e come fa il design del proprio scritto quindi proviamo a farlo con questo con questo card quindi guardate qua un attimo il codice lui cosa fa? crea per primo una riga ok crea un row e usando sempre perché è un po' la stessa cosa che abbiamo già visto con il flex no? che io posso fare una prima distruzione una macro distruzione per i componenti grandi del sito che sarebbe per dire com'è che si arrangiano i macro componenti del sito e poi all'interno di ognuno faccio a sua volta un'altra distruzione che è quello che avete fatto in lab anche no? c'era questa distruzione in cui voi mettevate boh gli articoli per dire e all'interno ogni articolo aveva la sua propria distruzione di componenti quindi avevate detto che a sinistra c'era l'immagine a destra c'era un'ulteriore divisione per mettere prima che ne so tipo l'immagine dell'autore il nome dell'autore la data e poi boh quindi è sempre la stessa logica qua noi finora abbiamo detto che il nostro sito diciamo come distruzione macro ce l'ha il navbar e ce l'ha una colonna a sinistra e poi il contenuto il contenuto principale a destra poi all'interno di questo contenuto principale che è dove adesso c'è menù del giorno cioè qui al posto di questo menù del giorno io voglio aggiungere due cart per dire due di questi componenti quindi avete visto fin qua avevamo fatto tutto a mano e qui anche il pezzo in cui voglio aggiungere i componenti boh copio e incolo ma poi tenete conto che anche guardate che loro seguono sempre la stessa struttura no dopo il row cos'è che mettono per prima delle colonne a cosa serviranno queste colonne a dare una dimensione ad ogni cart ok guardate che boh dal codice si capisce che questo qua sarà per la prima cart e questo qua sarà per la seconda cart ok vediamo come si vede sul nostro sito ok l'ha messo solo che dentro il posto di questo noi diciamo questo è primo qua secondo il primo secondo e com'è che facciamo ad aggiungere un'altra andiamo a copiare questo in questo caso però dobbiamo fare attenzione a a a questa a questa regola CSS no perché ricordate che ci deve sempre occupare quanto 12 quindi cosa vuol dire che la prima colonna diciamo qua ha delle regole per farlo diventare responsive per ora diciamo lasciamo stare la parte responsive e facciamo solo col 4 col 4 e col 4 in modo che tutti e tre o avrei potuto lasciare anche senza il 4 e l'avrei fatto in automatico sì ok e poi guardate che qua questo qui è tutto attaccato e cos'è che diciamo è attaccato questo card al navbar quindi cos'è che facciamo prima o cosa ci serviva a staccare un po' c'era il margine no come facciamo ad applicare qua il margine con bootstrap cerchiamo qui quindi c'è margin padding e si usa m per margine p per padding e poi si usa questo per specificare se top bottom start end x y e con i numeri a seconda dei numeri si aggiunge un un certo margine quindi un esempio sarebbe questo p 2 dove possiamo aggiungere questo margine forse al container che è il componente che viene messo subito dopo il navbar quindi se io mettessi qua p2 ma facciamo mi sembra sia pt in modo che aggiunge quel margine top padding top ok vediamo se funziona non lo so si ha fatto qualcosa che altri numeri ci sono qui specificati solo che questo è troppo piccolo lo facciamo con 5 ok quindi lì ha messo un altro forse un po' troppo quindi bene ok primo secondo contorno ehm ah poi c'erano queste recensioni no non so come facciamo questi avvisi possiamo immaginarci che gli avvisi verranno messi qua e non so ma anche voi avete aperto questo sito di bootstrap datemi una mano a cercare un componente che possa servire a fare gli avvisi che non c'è accordi no ah forse questo alert solo che questo ah boh forse qualcosa di questo genere no come questo qua questo batch no questo no bottom bottom group card card share plus bottom collapse top down list group non mi viene in mente ma si diciamo sempre per farvi vedere com'è che si possono aggiungere le cose che ci sono su bootstrap nel nostro sito ma mi viene in mente che forse questo qua potrebbe andare bene quindi guardate che questo qua non ha non ha né il row né i column perché perché è un singolo componente quindi non è che viene strutturato niente all'interno di questo di questo di questo rettangolo che è diverso da come erano strutturate le cards no? perché nelle cards volevamo che occupassero ognuna quattro colonne o occupassero lo stesso spazio quindi invece questo qua no per cui dobbiamo soltanto copiare incollare il D facciamo la prova copiamo il D e lo incoliamo qua dove prima c'era la scritta avvisi avvisi ok ci sta no? solo che al posto di questo well done e se al posto di farlo verde di avere lo sfondo verde noi volessimo usare quello blu quindi qua c'è l'esempio e che si fa con alert with an example link questo alert info mi sembra ok si al posto di alert success che lo dipinge di verde ci sarà alert info che lo fa diventare blu ok e poi se qua diciamo senza aver usato questo questo componente alert o questa questo CSS alert io avessi fatto come facevamo sempre prima tipo H3 e avvisi e sotto e si è fatto che ne so tipo un paragrafo funziona lo stesso no? ovviamente viene sempre tutto renderizzato applicato lo stile di bootstrap ma funziona lo stesso no? non è che per aggiungere ogni qualsiasi componente sul sito dovete andare a cercare un componente apposta ma diciamo i componenti servono quando vogliamo fare qualcosa forse di complicato o rendere o si aggiungere qualcosa di complicato ma se soltanto qualcosa di questo genere basta con aggiungere le cose come abbiamo fatto finora ok allora questo è il sito e poi qua diciamo ricapitolando c'è bootstrap sapete già come scaricarlo sapete come scaricarlo come integrarlo al sito sapete come funziona il layout e sapete come andare ad integrare dei componenti che ci offre sul nostro sul nostro sito ah ok non siamo riusciti a vedere questo ma ci sono anche delle regole css per gestire per dire le immagini quindi ve lo ricordate che voi nell'app volevate fare che ne so tipo un'immagine che occupassi a sinistra e avesse una certa una certa dimensione allora qua c'è una classe che ci aiuta a fare quel thumbnail c'è un'altra altre regole css che ci aiutano ad allineare le immagini mi sembra ci sia anche una per farle diventare così metterle all'interno di un cerchio quindi per fare tutto questo bisogna sempre andare a cercare su bootstrap vedere cosa ci offre e cosa possiamo copiare incollare ci fa fare le tabelle ci fa fare le figure boh c'è tantissimo da diciamo da esplorare qui bene quindi per ora il nostro sito lo lasciamo così diciamo che ha già un po' più di struttura guardate che in realtà a fare questo ci abbiamo messo pochissimo c'ero io che cercavo di spiegarvi ogni cosa ma in realtà come sviluppo come codice copiare incollare e funziona lui in automatico bisogna ripeto bisogna sempre fare attenzione a rispettare quella struttura container row column e se siete a posto con quello va tutto liscio domande? no? ottimo quindi indovinate cosa andrete a fare nel prossimo lab fare questo ma con bootstrap ok diciamo a fare sempre lo stesso layout ma con bootstrap e facendo anche la parte la parte responsive ma anche con bootstrap è banale quasi ok quindi niente ci vediamo giovedì finiamo qua grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti